Siamo all'officina che si trova dentro la sede della manutenzione del Comune di Arezzo, qui c'è Oasi con tutti i suoi volontari, le attrezzature che avete messo a posto, che avete aggiustato, insomma ci sono una serie di consegne in atto in questi giorni. Esatto, abbiamo ultimato la riparazione di una moto zappa che verrà regalata alla comunità Emmaus di Ponticino, che ha riaperto completamente e quindi vogliono anche fare un'attività di agricoltura, di ortaggi e frutta per i propri fabbisogni. Abbiamo visto anche questo trattore rimesso a nuovo, che destinazione ha? Sì, questo trattore va nelle zone terremotate, abbiamo già preso accordi con i col diretti che ci devono indicare eventualmente quale azienda agricola poter consegnare il trattore con tutto il coltro completo di tutto in maniera tale che possono riprendere la loro attività. Verso quella zona forse andranno anche una ventina di bici per bambini che avete terminato di riparare da poco. Esatto, abbiamo riparato una ventina di biciclette per bambini che erano della scuola di Olmo, però non le rivolgono, non so per quali motivi, anche se lo immaginano, però ci sono molte richieste e quindi ora noi abbiamo pensato di portarle a una scuola dove è venuto l'ultimo terremoto e così faremo contenti quei bambini che hanno subito questi grossi danni. Ecco, insomma, non manca il lavoro qua ad Oasi. Come vi organizzate? Quanto tempo dedicate a questa passione? Allora, il tempo è il martedì mattina, solo il martedì mattina, perché quelli che sono i volontari sono tutta gente esperta che hanno lavorato nelle officine, sono tecnici, addirittura hanno insegnato a qualche, ce n'è un paio che addirittura hanno fatto l'elettrauto fino a poco tempo fa e di conseguenza noi si cerca di tirare avanti il più possibile, ma solo il martedì. Il resto poi si trova, chi ci dona al trattore si guarda un pochino e si cerca di ristrutturarlo meglio che si può.